Io non ho mai smesso di considerarmi più intelligente di tutti e qualche volta, credetemi, me ne sono sentito un po' imbarazzato. Almeno guardavo sempre in tralice, non ho mai potuto guardare la gente dritto negli occhi. Già, signori, l'unica ragione per cui io mi considero un uomo intelligente forse è che in tutta la mia vita non ho mai saputo intraprendere né concludere niente. Certo, certo sarò un logorroico, un innocuo e fastidioso logorroico, come tutti noi. Ma che fare se la prima e unica destinazione dell'uomo intelligente è la chiacchiera? Cioè il meditato travasamento di un vuoto in un vuoto più grande?